Grazie per la visione! Acqua Ultra, l'ultra potere della purezza, uno strepitoso sistema per il trattamento dell'acqua che installato al rubinetto consente di eliminare al 99,9% cattivi odori, sapori sgradevoli e tutte le sostanze dannose di tipo chimico e fisico che ostacolano la salubrità dell'acqua. Acqua Ultra arriverà comodamente a casa vostra con un kit di montaggio di facile installazione. Acqua Ultra è inoltre dotato di un deviatore di flusso che permette di scegliere in modo semplice e veloce se erogare acqua filtrata o no. Utilizzando Acqua Ultra avrete acqua pura e buona al 99,9% e cesserete di comprare ingombranti bottiglie di plastica contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente. Ma non solo, pensate a quanta fatica, tempo e soldi risparmierete evitando di acquistare le bottiglie d'acqua. Con un solo gesto potrete bere un'acqua fantastica come quella che sgorga dalle sorgenti direttamente dal vostro rubinetto. Attenzione, questa offerta vale per pochissimo tempo. Non perdete questa imperdibile occasione. Telefonate subito al numero 0532 52546 e a soli 59 euro più spese di spedizione, Acqua Ultra sarà vostro. Avendo così l'imperdibile opportunità di bere e utilizzare l'acqua senza nessun tipo di impurità e pura al 99,9%. L'offerta prevede un kit di filtraggio e uno in omaggio. Ogni filtro ha una durata di circa 4 mesi variabile a seconda delle caratteristiche della vostra acqua. Affrettatevi a telefonare al numero 0532 52546 per non perdere questa straordinaria offerta a soli 59 euro più spese di spedizione. E ricordate con Acqua Ultra, dissetarsi non è mai stato così piacevole. Acqua Ultra, dissetarsi non è mai stato così piacevole.